Professor Perno, dopo la laurea in medicina all'Università La Sapienza di Roma, il suo percorso professionale l'ha vista impegnato in molteplici attività, sia in Italia che all'estero. Quanto di questa esperienza così ricca e unica ha giocato un ruolo importante per la sua vita professionale, ma anche per la sua vita personale? Beh, diciamo che ha giocato moltissimo perché, e spero di non offendere nessuno, dicendo che più uno ha capacità di farsi sfidare dalla vita, andandosi a cercare un pochettino le sfide, più c'è la possibilità di crescere. Io ho cambiato moltissimo nella mia vita, ho cominciato nell'80, poi ho già cambiato nell'82, ricambiato nell'83, poi sono andato in America nell'86, sono tornato nel 90, poi ho ricambiato nel 92, poi nel 2006. Sono tutte esperienze che poi servono perché il rischio che si corre è che crescere sempre nello stesso ambiente significa poi in sostanza adattarsi all'ambiente stesso e il rischio è grande. Invece questa sfida continua ti costringe a tirar fuori il meglio di te e adesso non so se questo ha contribuito a una storia tutto sommato bella come è stata la mia storia, lo devo riconoscere, però sicuramente ha dato una grossa mano. E cosa di quello che lei ha vissuto, che ci ha appena raccontato, ritiene particolarmente importante e vorrebbe che i suoi studenti potessero vivere? Beh, innanzitutto il coraggio di andare all'estero senza sapere l'inglese. Questa è stata un'esperienza interessante perché io sono partito per gli Stati Uniti convinto di avere una buona conoscenza dell'inglese, mi sono scontrato con quella realtà e uno in quei casi o si mette a piangere o impara. Ma io in dieci giorni ho scoperto di sapere l'inglese, quindi anche farsi sfidare e avere il coraggio poi di combattere, uno tira fuori delle risorse incredibili. Se ripensa alla sua esperienza clinica e di ricercatore, qual è stato il primo incontro sconvolgente con una malattia infettiva? Beh, non c'è dubbio, l'AIDS. Io sono arrivato in America al gennaio dell'86 quando il virus era stato scoperto da due o tre anni, non c'era nessuna terapia, i pazienti morivano a grappoli. Ero in un reparto in cui tutte le sere si andava via e la mattina si trovavano un paio di letti vuoti e non perché i pazienti erano usciti con le loro gambe. È un'esperienza che ti tocca profondamente. Devo dire però che è la stessa esperienza che ho vissuto con il Covid. Vedere tutti questi morti è stata per me ancora più sconvolgente forse dell'AIDS. Riallacciandomi appunto a quello che sta dicendo, il momento che abbiamo vissuto e stiamo ancora vivendo è sconcertante sia per l'Italia che per tutto il mondo. In questo periodo molto è stato detto sui virus, sulle zonosi, sulla trasmissione infettiva di questa malattia che lei ha definito aggressiva e impegnativa. Come ha vissuto e cosa ha imparato da questa esperienza così drammatica? Tantissimo. La prima cosa che ho imparato è non dare mai per scontato di sapere le cose giuste perché tutti noi all'inizio gennaio, febbraio, avevamo la percezione di un qualche cosa che sarebbe passata e andata. Inutile negarlo, era così. Avevamo già vissuto la SARS nel 2003 che era passata e era andata via, una brutta influenza eccetera. Poi cominciamo a vedere che la gente moriva e allora c'è stato chi ha tenuto duro dicendo no no è null'altro che una grossa influenza e poi invece il coraggio di farsi sfidare dalla realtà e vede che torniamo a quello che dicevamo prima e dire no forse le cose non stanno così. E avere il coraggio di fare un passo indietro e dire no no qui stiamo parlando di qualche cosa di nuovo e di sconvolgente che in effetti poi ha sconvolto la nostra vita. Io spero veramente di non rivivere mai più un'esperienza come quella degli scorsi mesi. Lei è stata protagonista di un piccolo caso sul web con un'intervista fatta da sua figlia pubblicata su Instagram che in poche ore ha raccolto oltre 200.000 visualizzazioni. Sempre sua figlia ha scritto nel post che non è stato difficile convincerla perché è affascinato dai social. Allora le chiedo in che modo i social possono essere utili soprattutto per fare informazione corretta sui giovani? Questa è una domanda bruttissima perché dovrei rispondere in maniera duale. Cioè da un lato dire che i social troppo spesso semplificano e di conseguenza non permettono di capire la complessità delle cose. E certe volte invece è indispensabile andare a fondo per capire come vanno le cose. Ma dall'altro è inevitabile che stiamo andando verso una società che è fatta di spot, di pillole. E allora avere la capacità di esprimere un concetto e sapere essere convincente in tempi brevi in una società che non ha più la capacità di approfondire, ahimè, quindi la risposta vera nella dualità è la seconda. Tutti noi dobbiamo avere il coraggio di farci sfidare dai social ed essere capaci di esprimere concetti e saperli esprimere semplicemente e in maniera convincente. Quindi dobbiamo farlo. Il dibattito tra gli specialisti in questo ultimo periodo direi che si è fatto acceso, soprattutto nell'ultima fase dell'epidemia, sia sui test diagnostici per la ricerca degli anticorpi che sul rischio epidemico ancora reale. Qual è la sua posizione a riguardo? È la posizione di una persona che si è sempre occupata di virologia. Il problema sta nella parola che ha detto lei, specialisti. Purtroppo c'è stata una definizione di specialisti data un pochettino a tutti. Nell'ambito del Covid si sono susseguite varie persone che hanno lavorato e hanno presentato su questo. Qualche uno specialista, qualcuno un po' meno. Quello che ho imparato è che gli specialisti veri erano tutti d'accordo. Qualche non specialista era un po' meno d'accordo. Quello che adesso abbiamo chiarito è che questo è un virus che ha le caratteristiche per restare fra noi. Al contrario di tanti virus che sono passati, dobbiamo combattere per far sì che non si riespanda. È un virus tra i più infettivi che abbia mai visto, forse il più infettivo. Ecco, quello su cui siamo perfettamente d'accordo è che se non lavoriamo bene, questo virus continuerà a generare problemi a noi e a tutti quelli che ci circondano. La ringraziamo per aver partecipato a Way Together. Alla prossima. Alla prossima. Grazie.